La Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone, Armando Pizzinato, ospiterà dal 14 settembre al 17 novembre 2013 la mostra di Gianluigi Colin, Caos Apparente. Curata da Fulvio dell'Agnese, la mostra presenta opere e installazioni inedite e realizzate appositamente per l'evento pordenonese. Siamo lieti che in coerenza con quello che è l'indirizzo di politica culturale dell'amministrazione comunale proponiamo questa mostra. E poi è un omaggio non solo al nostro concittadino ma a un importante artista che si sta ritagliando una posizione estremamente rilevante nell'ambito dell'arte contemporanea nazionale e internazionale. 30.000 stampe fotografiche avvolgono l'intero spazio superiore della galleria e 250 opere adagiate sul pavimento come frammenti archeologici del nostro presente rappresentano il corpus portante della mostra. Caos Apparente è il segno di quello che noi viviamo tutti i giorni. Siamo sommersi da un grande sistema di informazione in cui l'eccesso dell'informazione, un eccesso di informazione poi non sempre di alta qualità o che comunque ci fa capire la realtà ci impedisce di alimentare le nostre coscienze e al contrario ci dà un senso di oppressione. La prima parte che è una sorta di prologo a questa è appunto un omaggio, inizia con un omaggio a questa città a Pordenone e a quello che è il suo più illustre artista appunto il Pordenone. Per cui io ho messo insieme un racconto di immagini estraendo dalle pale, dai dipinti, dagli affreschi del Pordenone i volti. E così come lui dipingeva i volti delle persone che gli erano vicini, i parenti, gli amici, i vicini di casa eccetera, Allo stesso modo io ho voluto rendere omaggio a questa città attraverso i volti delle persone che abitano a Pordenone e in Friuli.